Ti stai appassionando alla fotografia e al videomaking e forse ti stai chiedendo quale macchina fotografica acquistare? Forse ti è già stato dato qualche consiglio ma sei ancora molto confuso. Beh, probabilmente il problema non è tanto nella risposta, ma nelle domande che facciamo. Sì, perché chiedere quale macchina fotografica è meglio acquistare molto spesso può essere forviante, anzi a volte può essere anche contoproducente. Perché effettivamente la miglior macchina fotografica è indubbiamente quella forse appena uscita, quella con la tecnologia migliore, quella col sensore più performante, con il chip più veloce, con la scienza a colore più raffinata. Ma effettivamente quello che fa al caso tuo? Sei disposto a spendere migliaia e migliaia di euro per iniziare a scattare con una macchina fotografica di questo tipo? Forse potrebbe essere inutile o, come abbiamo detto, forse anche contoproducente. Perciò oggi cerchiamo insieme di fare un po' di chiarezza per comprendere effettivamente quale domanda dobbiamo porci e quale categorie di macchine dovremmo andare a ricercare, così da conoscerle un po' loro insieme e capire quelle che potrebbero fare al caso tuo. Innanzitutto c'è da comprendere qual è lo scopo per cui voglio fare fotografia. Voglio semplicemente fotografare altri? Voglio fare anche video di una certa qualità? Mi interessa farlo per passione, a livello individuale? O forse voglio iniziare a imparare a utilizzare i settaggi del campo della fotografia per fare uno step successivo, per passare magari a utilizzarlo in ambito professionale o, perché no, per trasformare la mia passione in un lavoro? Beh, queste sono domande fondamentali anche per capire che tipologia di budget ci vogliamo porre quando vogliamo acquistare una macchina fotografica. Ormai ne esistono davvero di tutti i tipi e di tutti i modelli. Possiamo però iniziare a suddividere due macro categorie di macchine fotografiche che potrebbero fare al caso nostro. Ad esempio abbiamo le fotocamere compatte. Fotocamere come questa, fotocamere che effettivamente hanno tutto incluso nel loro insieme. Ci sono di bassissimo livello e ovviamente se sei un appassionato te le sconsiglio, ma ci sono anche macchine fotografiche compatte come questa che hanno davvero una buona qualità. Questa ad esempio è la RX100 Mark IV, ne sono uscite diversi e svariati modelli con prestazioni differenti, ma già questa include la possibilità di avere un obiettivo zoom incluso all'interno del corpo macchina fisso che non si può cambiare, ma che permette di avere la possibilità di iniziare ad approcciarci ai settaggi classici delle macchine fotografiche, ovviamente se utilizzate in modalità manuale. Per chi è rivolta questa macchina fotografica o questa tipologia di macchine fotografiche? Beh, per chi ha bisogno di praticità, velocità, immediatezza d'utilizzo, accendi e scatti senza avere problematiche per scegliere la tipologia di obiettivo o quant'altro. Alcune macchine come questa ad esempio hanno anche la possibilità di avere uno schermo flippabile, utilissimo ad esempio se ci vogliamo auto riprendere o fare dei selfie. Se però vuoi fare uno step successivo, allora potresti voler passare a una macchina fotografica con obiettivo intercambiabile, ad esempio come questa. Questa è la Sony Alpha 6003, però ci sono diverse macchine fotografiche con obiettivo intercambiabile che tu potresti desiderare e queste potrebbero variare anche dalla tipologia di sensore che hanno al loro interno. Sì perché c'è da fare una grande distinzione in tre macro categorie, ce ne sono molte più ma per semplicità oggi ne citiamo soltanto tre. Esistono i sensori micro 4 terzi che sono i più piccoli, i sensori APS-C oppure fotocamere full frame come quella che ci sta riprendendo la Sony 7.3. Le ho elencate in ordine di grandezza. Ovviamente qual è la differenza? Un sensore più grande, proprio spiegandola in maniera brutale e molto semplicistica, riceve più luce, più informazioni e quindi può scattare foto di un livello superiore. Ovviamente però ogni sensore, ogni grandezza di sensore ma proprio anche la qualità del sensore in sé ha dei pro e dei contro differenti. Ovviamente ci vorrebbe un video a parte solo per spiegare questo aspetto, ma generalmente per proprio banalizzare al massimo la cosa ma per renderlo comprensibile, un sensore full frame, il più grande, è quello che porta a corpo in macchina più costosi con lenti altrettanto costosi. Quindi se ti stai approcciando per la prima volta al campo fotografico probabilmente ti sarà più conveniente acquistare fotocamere di fascia più economica, ma che comunque ti permettono di mantenere tutte le funzionalità di una macchina fotografica a tutti gli effetti. A questo punto come fare a scegliere? Una volta che abbiamo stabilito che tipologia di macchina fotografica avere, dobbiamo comprendere che ogni macchina fotografica che c'è in commercio è stata sviluppata per inserirsi in un settore particolare. Ad esempio, se sei interessato a fare fotografie prevalentemente a persone, allora comprai una macchina fotografica, è un obiettivo di un certo tipo. Se sei interessato forse a fare prevalentemente video, ci sono macchine che hanno una predilezione per l'aspetto video. Forse ti piace scattare in eventi sportivi, ci sono macchine fotografiche che hanno la capacità di avere raffiche di scatti particolarmente elevati, mantenendo un ottimo autofocus, ad esempio. Oltretutto devi comprendere qual è il tuo uso prevalente della macchina fotografica. Ad esempio la uso per fotografare e filmare altri, allora probabilmente una macchina di questo tipo, con uno schermo che ruota in questo modo, potrebbe esserti sufficiente. Oppure filmi te stesso o prediligi fare selfie o foto di gruppo in autonomia, però probabilmente ti sarà necessario avere uno schermetto flippabile. Prendersi una macchina fotografica e iniziare a scattare non fa di te né un fotografo né qualcuno che produce buone fotografie. Dietro al mondo della fotografia c'è tutto un processo, anche di post-produzione, che porta a dare il massimo, il massimo della qualità alle foto che noi scattiamo con i nostri dispositivi. Quindi se non sei ancora pronto ad approcciarti a questo campo, forse a studiare, a comprendere come poter migliorare le tue fotografie e dedicare anche del tempo alla post-produzione, e soltanto queste parole forse ti stanno facendo venire un gran mal di testa, allora forse questi non sono gli strumenti adatti a te. Possiamo ricordare che oggi abbiamo degli smartphone, forse di ultima generazione, che ci permettono di fare foto incredibili. Anche con quelle possiamo iniziare ad avvicinarci a questo campo, forse semplicemente impostando il nostro smartphone nella sezione della fotocamera in modalità manuale, iniziando un pochettino a giocare con i parametri per comprendere come cambiano le scene, le immagini in base ai settaggi che andiamo ad impostare. Ma forse invece vogliamo qualcosa di pratico da poter utilizzare quando forse facciamo le nostre attività sportive, o forse quando andiamo a fare qualche nostra avventura personale. Probabilmente un action cam, una piccola telecamerina, che ormai si trovano in commercio quasi in ogni brand, ma soprattutto sono di qualunque forma e dimensione, potrebbe fare il caso nostro. Anche in questo caso però dobbiamo tenere a mente che il prodotto finito deve essere in qualche modo post prodotto per poter essere un minimo fruibile. Qual è la fotocamera o l'attrezzatura migliore per noi? Beh, non è sicuramente quella ultima uscita sul mercato, non è quella forse che ci consiglia il nostro caro amico, ma è quella adatta alle nostre esigenze. Prima dobbiamo conoscere qual è l'obiettivo che vogliamo raggiungere. Facendoci queste domande potremo essere sorpresi a scoprire che l'attrezzatura migliore forse ce l'abbiamo già nella nostra tasca, il nostro smartphone. Grazie a tutti.